Ciao Sadhguru, per la maggior parte della mia vita ho vissuto negli Stati Uniti, sono qui in vacanza e sono fortunato di essere qui e... Non sapevo che le persone venissero a Mumbai in vacanza. Per me è una benedizione essere qui in realtà, la mia domanda per te è che ho avuto un trapianto di fegato un anno fa e ho avuto una specie di risveglio e sto combattendo l'essere spirituale e allo stesso tempo essere fisico. E non voglio essere un Buddha che ha lasciato sua moglie e se n'è andato. Mi piace stare con mia moglie. La mia domanda per te è che l'urgenza di andare dall'altra parte è molto, molto forte. Come scendi a patti con questo? Questa è la mia domanda per te. Grazie. Il Buddha ha lasciato sua moglie quando aveva 24-25 anni. Ci sono alcune cose da cui non puoi rischiarti. Comunque, in merito... Questo è qualcosa... La chiarezza deve giungere nella popolazione. Il processo spirituale è un viaggio interiore. La geografia della tua posizione, se andrai a vivere a casa tua, a Mumbai o negli Stati Uniti, o sceglierai una grotta da qualche parte. Comunque, per dirti la verità, non ci sono sufficienti grotte nell'Himalaya per tutti voi. Quindi non ha senso cercare una grotta. La casa in cui vivi, o la città in cui vivi, o l'atmosfera, le persone intorno a te, non hanno alcuna importanza affinché tu ti rivolga all'interno. Perché il viaggio interiore riguarda essenzialmente te. Questo non ha niente a che fare con nessuno. Ci sono tante persone che vengono a dirmi, Salguro, voglio essere spirituale, ma mia moglie è un tale problema. Soprattutto se è un problema. Dovrebbe essere facile diventare spirituale. Siccome almeno sai che una cosa non sta funzionando, cercherai l'altra. Quindi, dico che a prescindere se l'atmosfera è dolce o brutta intorno a te, non ha niente a che fare. Ha qualcosa a che fare con il rivolgersi all'interno. Se la tua idea di spiritualità è di sembrare differente, vestirti in modo differente, fare cose in modo differente, non è processo spirituale. Questo è un certo... Sai, le persone possono attaccarsi a qualcosa perché sentono che otterranno una guida, lì, e potrebbero fare certe cose. Certe regole potrebbero essere stabilite in certi gruppi. Ma essenzialmente la spiritualità non ha nulla a che fare con le atmosfere in cui vivi. ha qualcosa a che fare con l'atmosfera che crei dentro te stesso. Grazie. 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 Grazie.